Salve a tutti ragazzi, eccoci qui oggi con un nuovo video, siamo qui oggi con l'apertura della tinne Ivi e Snorlax GX Tag Team ragazzi Queste tinne sono spettacolari, non so se avete già visto il video del pool della tinne di Venasauro e Serebi ragazzi Andate a vedere quella tinne che è stata penso una delle migliori tinne che io abbia mai aperto A parte quella in cui trovai Solgaleo Gold, vabbè ma quella lì è una cosa, un'infezione che proprio non succederà ma è più Comunque andate a vedere quel video perché è tanta roba Però adesso non pensiamo all'altro tinne, ma pensiamo a questo video perché abbiamo qui un'altra tinne spettacolare, Artwork, bellissimo Adesso lo vedremo con calma, eccolo qui, Snorlax e Divi, bellissimo Poi per vedere meglio le foto dettagliate le pubblicherò anche su Instagram, quindi Leonardo, barra sotto G, barra sotto C, andrete a vedere tutto Eccolo qui Ma adesso basta fare le cinciance ragazzi, andiamo subito a vedere i pezzi, cosa contengono Allora, togliamo la carta promozionale, eccola qui Allora, devo dire che fra le tre tinne la carta promozionale che mi piace di meno è questa qua di Ivi e Snorlax perché non mi piace molto il disegno come è fatto Però è particolare quindi si sta Anche se sembra che Snorlax stia mangiando degli Ivi, se vedete bene sembrano tipo dei mini Ivi Comunque vabbè, mettiamo subito Ivi e Snorlax GX Full Art Sun and Moon 169 dentro la sleeve Ricordiamo che questa, quest'artwork è l'artwork alternativo No, forse no Questo qui non mi ricordo Vabbè, niente, fate finta, non ho detto niente, lo mettiamo qua dietro Ma adesso vediamo i pezzi perché abbiamo qui Gioco di squadra Gioco di squadra, tuoni perduti e guardiani nascenti Quindi nelle tinne si trova sempre, oltre a questa medaglietta GX Alleati spettacolare 2019 Fabbricato in cinema, in cinema, vabbè, sempre le solite cose, questo lo mettiamo dietro a sfondo E niente, abbiamo preso tutto, possiamo rifiutare la tin Che mettiamo, eccola qua, da sfondo E one, two Mettiamo questo qua Quello lo lasciamo lì a posto Siamo pronti, abbiamo Ivi e Snorlax che lasceremo per ultimo Ragazzi, lo mettiamo qua dietro Andiamo poi con questo, questo e questo Allora, se siete pronti o non siete pronti Mi raccomando, voglio fare un buon pull anche in questa tin Quindi salve il vostro like Iniziamo subito con guardiani nascenti Così ci togliamo questa espansione Questa volta non la schifo, ragazzi Perché ogni volta schifo il pacchio se trovo una carta buona Quindi voglio provare oggi, senza schifarlo, se troviamo una buona carta Carta poi ci togliamo Trick a 4 che tricchiamo Andiamo subito con Energia Wachock Weaving Bell Animatore Puncham Bearsprout Codony Carvagna Patrat Puncham Reverse Attenzione Wild Lord Raro Quindi ragazzi è meglio schivarla Sì, schivarla Schivato Meglio schivare Meglio schifare la confezione guardiani nascenti Perché ogni volta ci da sempre una buona carta L'unica volta che non l'ho schifata Non ci ha dato un cacchio E adesso andiamo Spero che questa cosa non influenzi anche quest'altro pacchetto Andiamo subito con solo le lunatoni perdute Perduti Vorrei trovare un bel Lugiai Però vabbè dai Non esageriamo eh Basta anche una GX È normale però Ha influenzato tutte Invece no perché ho visto qualcosa di buono Carta codice che togliamo Trick a 4 che tricchiamo E andiamo con Attenzione Questi pacchetti impicciano Energia Mantai Allenatore Allenatore Onyx Ralts Syndacui Pineco Combi Attenzione Ditto Prisma Spettacolo 154 di 214 Una bella Prisma E per finire Virizion GX Ragazzi molto Decentrato Già ce l'avevamo questo Virizion Quindi va bene E mettiamo subito Tutte e due Nel Tiff ragazzi Iniziamo subito La grandissima Anche questa team Con Ditto Prisma Che mettiamo qua vicino A Ivi e Snorlax Che secondo me ci sta molto bene E poi Mettiamo Virizion GX Normale Qua vicino Alla tag team GX alleati Vabbè insomma Non è capito Combi ragazzi Trovato l'altro giorno Non sapevo nemmeno L'avessero aggiunto Comunque vabbè Lo mettiamo qua E andiamo con questo Terzo pack Primo pacchetto Gioco di squadra Pacchetto che richiamo Appunto La quina che stiamo aprendo E vediamo Cosa troviamo Ragazzi Pensate un bel Zegrum E Pikachu Hyper Sarebbe una cosa Spettacolare Però vediamo un po' Perché questo pull Ragazzi non mi va molto bene Ma attenzione Ho visto qualcosa Ragazzi Ho visto qualcosa Trick a 4 che tricchiamo E andiamo subito Con Energia Kangaskhan Heliolisk Allenatore Honich Widow Dratini Gramer Dialola Ponita Scarmora Reverse Attenzione Latias e Latos E vabbè avete capito Latos e Latos Angolos E tutti quanti Latias e Latos GX Full Art 169 Di 181 Ragazzi Bella cartina Questa è molto bella Subito Nella slip Ragazzi Questo pull Che spettacolo Prisma GX e Full Art Mettiamolo qua sotto A Ivy Così vi sembra che cammini Sopra la carta E Scarmora Era raro Subito Nella slip Ragazzi Un bello Scarmora Reverse raro Nella slip Perché Reverse raro Ragazzi È una buona carta Dai su Miglio solo di GX Allora Pull Sta andando benissimo Quindi andiamo Con questo ultimo Pack Ragazzi Ivy e Snorlax Ivy e Snorlax Ci deve dare per forza Qualcosa Su E vediamo Cosa troviamo Allora Voglio fare con l'occhio chiuso Se no mi spoiler Se c'è qualche carta buona Non voglio vedere Fino a quando Non apro Allora Carta codice Che togliamo Poi giriamo Facciamo Trick a 4 Che trichiamo Adesso sono pronto E abbiamo Energia Allenatore Spiritomb Heliolisk Ponita Cosmog Voltorb Squirtor Bronzor Vulpix Reverse E attenzione Absol Olografico 88 di 181 Ce l'avevo già Ma sa Però Bello con l'Hartor Ragazzi Mi piace Ci sta E quindi Per questa team è tutto Siamo stati molto fortunati Ragazzi Siamo Vabbè Sono Vabbè Siamo tutti insieme Sono stato fortunato Con Virision GX E Ditto Prisma Più Latios Latias E Latios GX Full Art Quindi Per questo video è tutto Revitiamo l'artwork Della carta promozionale Eccolo qui Ivi e Snorlax GX Full Art Sun and Moon 169 Con lo Snorlax Che mangia degli Ivi Vabbè ragazzi Succede anche questo Nel mondo pagano Non è che sono tutti buoni Tutti Cioè Se li mangia Ragazzi C'è che si li mangia E quindi Per questo video è tutto Spero il video è stato piaciuto Lasciate un bel like Iscrivetevi al canale Se ancora non siete iscritti Perché ci sono moltissimi attività Già pubblicati sul canale E moltissimi altri Che ancora dovrò pubblicare E niente Like, subscribe, share È tutto quello che vuole Iscrivetevi al canale